Alberto Ferrarini, io quando ti ho conosciuto, ti ho conosciuto perché tu parlavi sempre in macchina e parlavi molto di automobili ma soprattutto di calcio. Ti presenti, poi ti ho visto in un corso dove hai spiegato il perché, qual è una strana maledizione della Juventus e oggi sei venuto a casa mia e ti sei portato due maglie di due calciatori, due numeri dieci importanti. Sì, Messi e Del Piero, certo. Me li fai vedere? Messi. Questa è la maglia con cui? Con cui Messi ha giocato contro la Juventus dove ha fatto anche gol a Torino, ha vinto il Barcellona a Torino e questa è la maglia di Alessandro Del Piero. Ok, però il concetto è che io voglio fare, voglio spiegare una cosa che è molto forte però secondo me è giusto che la conoscenza vada incontro alle persone e faccio capire come l'universo dialoga con il tutto e faccio capire anche che cosa c'è scritto qui qui non c'è scritto Del Piero, qui non c'è scritto Messi a breve ti spiegherò che cosa c'è scritto allora, innanzitutto voglio far capire questo procedimento puoi guardare un attimo qui allora quando il 3, il 6 e il 9 si uniscono tra di loro l'universo crea Nikola Tesla ok, la magnificenza del 3, il 6 e il 9 ciò che comanda la vita, ciò che comanda il tutto è che l'universo dialoga con la matematica sacra la matematica sacra ha questi codici questo è un codice dove si trova all'interno di un ramo della Kabbalah numerologia ebraica numerologia indiana numerologia caldea quindi ogni lettera corrisponde a un numero ogni lettera corrisponde a un equivalente energetico che è un numero se noti le lettere arrivano fino a 8 e non a 9 perché dare il numero 9 di una lettera era un'offesa a Dio per quello che Leonardo da Vinci non finiva le opere per rispetto a Dio pertanto si fermava un metro prima un millimetro prima detto questo voglio far capire come funziona l'energia dell'universo voglio far capire come funziona l'energia dell'universo io dico abbatti la tua mente critica ascoltami perché tutto quello che ti dico è logico congruente matematico ed è assolutamente ovvio l'universo ragiona attraverso la matematica sacra e ogni numero ha dei codici giorno, mese, anno noi fondamentalmente siamo dei codici siamo dei numeri anche Da Vinci fa il suo codice Da Vinci la matematica sacra poi scende e dialoga con la simbologia dialoga con le metafore dialoga con la ciclicità e dialoga con il nostro pensiero queste cose qua unite poi dialogano con la nostra mente analitica che dialoga con l'essere umano pertanto quando una persona va a scuola e viene istruito dalla scuola non conta niente se non ha una buona simbologia se non dialoga bene con le metafore se non ha un pensiero forte e se non ha una buona ciclicità che comprende la sua geneologia oltre a questo bisogna capire qual è la matematica sacra chi è che ragionava così? Da Vinci chi è che ragionava così? il Buddha chi è che ragionava così? il Cristo tanto che il Cristo e il Buddha ci parlano attraverso simboli metafore e addirittura il Cristo cambiava anche i nomi delle persone perché comunque l'universo ci parla in termini matematici ok? molto bene adesso quello che voglio dire perché ho portato la maglietta di Messi? perché tutti quanti voi qui leggete che c'è scritto Messi giusto? sì bene a livello analitico qui c'è scritto Messi ma ha notato che Messi quando è andato al Paris con la maglia numero 30 non ha fatto niente? per quale motivo? nella vita esistono gli incantesimi è un qualche cosa che si parla poco ma sono potentissimi gli incantesimi lavorano nel bene o purtroppo anche nel meno bene bisogna saper gestire gli incantesimi l'essere umano tante volte fa degli incantesimi senza che ne sia consapevole qui c'è scritto Messi 10? no non è assolutamente vero qui c'è scritto Messi ok? qui c'è scritto Messi e poi c'è un numero 10 se io guardo la numerologia il numero 10 corrisponde alla lettera 1 quindi A e lo 0 è un moltiplicatore di energia quindi dietro a questa maglietta c'è scritto Messi A moltiplicato pertanto lui nel calcio nell'universo viene visto come il messia del calcio quando Messi toglie la 10 non è più lui e questo lo dice i fatti lo dicono i fatti l'anno scorso ho fatto un post che dicevo che addirittura si sarebbe fatto per una gamba eccetera 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 ma perché? uno potrebbe dire porti sfiga oppure come fai a saperlo? perché lui a livello di risonanza non mi va a richiamare quella frequenza che ho l'energia che lo porta a essere metaforicamente il messia del calcio quindi tu mi dici che se uno come Messi cambia il numero della maglia cambia la sua energia che cazzarola no se Messi torna a portare la 10 torna a volare torna a fare Messi mentre Messi che lavora con la frequenza 30 non c'entra niente cioè mi va a togliere il moltiplicatore di energia e mi va a togliere la A ma è questo il motivo per cui tu a PopGall hai fatto mettere 10 e poi lui ha scritto 5 a Biro che era una cosa non si è mai vista che uno scrive a Biro sulla maglia più 5 sul penarello perché Paul ha i numeri del genio i numeri del genio sono il 6 il 10 per Paul non va bene lui 6 significa conoscenza quindi 10 più 5 è 6 estro tutto quanto detto questo è tutta una metafora quando io lavoro sul numero su una persona lavoro sulla metafora sul simbolo sull'inconscio lui non si accorge di niente ok e improvvisamente hai la fortuna metaforicamente parlato che ti viene addosso o hai un badile di non so cosa che ti viene addosso dipende da come tu sai gestire l'energia ok però voglio parlare di un concetto importante visto che parliamo di Juventus allora Juventus che codice è Juventus perché parliamo di Juventus giusto molto bene Juventus è codice 1 6 6 5 5 4 6 3 che corrispondono a questi numeri codice 36 quando il 3 il 6 e il 9 si uniscono tra di loro l'universo crea giusto torniamo al discorso della Juventus la Juventus è molto vicino con l'universo è una squadra molto potente per l'universo a livello energetico ma già dalla parola stessa si chiama Juventus vuol dire gioventù ma la chiamano vecchia signora c'è un po' l'incongruenza no comunque il codice della Juventus che cos'è 36 molto bene quindi la Juventus viaggia sulla frequenza 36 36 e 9 9 che cos'è Marte il dio della guerra numero del fuoco numero del fuoco numero dell'energia forte di Marte allora perché ti porto la maglia di Del Piero perché qua tu vedi scritto Del Piero Del Piero è anche il 10 ma non è vero è un'altra balla non c'è scritto Del Piero qui c'è scritto allora Del Piero 10 uguale 4 5 3 8 1 5 2 7 totale frequenza 9 12 12 20 21 28 35 37 35 35 più 1 più 0 uguale 36 frequenza della Juve Del Piero è la Juventus all'ennesima potenza fermo là quanti anni aveva Del Piero quando ha firmato il primo contratto 1993 18 anni 9 che giorno è nato Del Piero il giorno 9 pertanto Del Piero Alessandro Del Piero è destinato ad essere la leggenda della Juventus cioè la vita l'ha portato in quella direzione e lui sicuramente è la storia della Juventus vedere Del Piero distante la Juventus è come vedere la Ferrari distante da Maranello cioè è una cosa assurda tanto che poi lui è colui che ha fatto nascere anche il nuovo stadio nella panchina insieme con Giampiero Boniperti per me Alessandro Del Piero deve stare vicino alla Juventus è veramente il capitano della Juventus ed è una leggenda ok un domani si chiamerà lo stadio Alessandro Del Piero ma andiamo avanti ok l'avevi mai vista questa particolare qua no impari a vedere le cose sotto questo aspetto sì è strano pensare che noi siamo tutti numeri però mi viene in mente una cosa che ho imparato per l'universo noi siamo dei codici noi non siamo nomi no 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 ma mi viene in mente che ho fatto un'intervista di recente ad Andrea Faccani che è il presidente della fondazione Lucio Dalla e che seguiva Lucio da sempre Lucio Dalla e mi ha detto che il brano Enna in realtà doveva intitolarsi e se Dio fosse un computer ma Dio non è un computer no 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 Dio dialoga con la matematica che dialoga con l'universo tutto è matematico ma la matematica si inginocchia davanti alla fede pertanto se tu mi dici Dio che cos'è Dio è fede e matematica e se vuoi parlare con Dio lo puoi fare attraverso i simboli le metafore la ciclicità ed un pensiero forte una grande intenzione una grande convinzione una grande certezza però adesso andiamo avanti e andiamo al motivo di questo video giusto? si non lo so però e mi aveva colpito quella storia che tu vi avevi detto in un con hai fatto una convention davanti a 5.000 persone dove allora la Juventus secondo me si è creata involontariamente un incantesimo negativo senza di esserne consapevole per quale motivo perché il 29 maggio 1985 quindi 29 05 1985 ci fu quella partita contro il Liverpool dove ci furono 39 morti allora la frequenza di quel giorno ovviamente è 29 11 5 10 18 23 pertanto era un giorno 11 karma 39 ok karma 39 destino 39 1985 Juventus Liverpool allora abbiamo capito che la Juventus ha una frequenza 36 e Liverpool è una frequenza 42 molto bene adesso le vittime di quel giorno furono 39 qual è lo sbaglio enorme che ha fatto la Juventus di giocare quella partita perché perché se ci sono delle persone che sono venute a vederti se ci sono dei bambini di 10 anni che sono venuti a vederti e purtroppo ti cade il settore Z di quello stadio e ci sono 39 morti caldi per terra se tu giochi e una volta che giochi tu vinci e festeggi la vittoria quando ci sono i tuoi tifosi che sono lì caldi morti l'universo lo vede come una maledizione tanto che poi la Juventus ha perso 7 finali ok e ne ha vinta solo una a Roma a Roma dove l'anno prima il Liverpool giocò a Roma la vinse contro la Roma e ha fatto un casino allucinante pertanto Roma diciamo che è l'unica città dove la Juventus poteva vincere la Champions League ma ti faccio andare con ordine allora partiamo da un principio il giorno che è nato la Juventus primo novembre 1897 quindi 1 2 9 18 25 ok 1 Karma 28 allora mai far nascere una società nel giorno dei Santi o nel giorno comunque dei morti perché simbolicamente parlando in quel momento le persone comunque energeticamente pensano ai loro cari che cosa succede succede che dal dal 1897 a quel 29 maggio 1985 ci sono esattamente 31 985 giorni 1985 31 mila perfetto in questo caso era come destino che la Juventus andasse incontro a questo tipo di esperienza nefasta ok in questo caso andiamo a vedere che sono 7 mesi in quel giorno il 209 giorno che è uguale a 29 209 togli lo 0 che è un modificatore di energia uguale a 29 e l'anno 1985 è l'anno 10 18 23 è uguale all'anno 5 quindi 29 5 31 1985 è come che ci fosse stata scritta questa data ed è veramente una cosa inconcepibile ed incredibile ok ma qual è la cosa più brutta in sostanza chi è che ha deciso di far nascere o di giocare in quella partita i dirigenti della Juventus per ordine pubblico perché si diceva che in quel momento la squadra doveva giocare per una questione di ordine pubblico ma in questo caso chi è che ne ha trovato beneficio al negativo il povero Gaetano Scirea perché lui era il capitano della Juventus quindi da capitano della Juventus lui ha dovuto dire purtroppo si gioco se mi dispiace dire le cose come sono e come le penso mai doveva giocare quella partita si doveva rifiutare sicuramente magari Gaetano può essere che abbia avuto anche dei sensi di colpa per quella partita ma la cosa che fa veramente rabbrividire è che Gaetano Scirea purtroppo se n'è andato in un incidente stradale quando nel 1989 ok il giorno in questo caso 3 settembre in numerologia 1989 l'anno 27 che è l'anno 9 guarda caso lo stesso anno di Juventus che indica fuoco il mese 9 che indica fuoco e il giorno 3 che indica giustizia è fatta il giorno il mese e il karma di quel giorno formano esattamente il numero 39 che sono i morti di che cosa di quella curva Z dell'Aiself Aiself in numerologia che significa codice 22 che vuol dire barca che affonda è come che Scirea purtroppo si sia preso una forma di ingiustizia e come è morto Scirea tamponato in Polonia dove la sua macchina ha preso fuoco ok e la cosa assurda poi che questa maledizione sembra che da Scirea voglia andare anche a chi all'unica persona che ha alzato la Champions League della Juventus ok nel 1996 che è Gianluca Vialli esattamente dieci anni dopo quasi undici anni Vialli che è nato in un giorno nove karma 36 e Vialli che diciamo che sta lottando per stare bene e fare tutto quanto ciò allora che cosa dico dico che secondo la conoscenza la Juventus si è presa una fortissima maledizione perché se l'è voluta lei se l'è creata ha perso sette finali ed è sempre in mezzo i casini ma non solo anche la famiglia Agnelli sarà una coincidenza la sarà no ma dopo quella situazione pori Cristi hanno avuto tante sventure hanno avuto tantissime sventure allora che cosa dice la conoscenza la conoscenza ci riporta a questo punto e il punto sono la conoscenza pura se tu vuoi parlare con l'universo lo devi fare attraverso il 369 attraverso la matematica sacra attraverso il pensiero la ciclicità le metafore e la simbologia per la Juventus io vedrei un bellissimo simbolo un bellissimo incantesimo quale incantesimo ma la domanda che io voglio fare la voglio fare a te che mi ascolti ma secondo te 39 persone sono innocenti che muoiono e sono calde e si vedono che i loro paladini della giustizia giocano lo stesso a calcio vincono e festeggiano ma secondo te non ti sta un po' sulle scatole tutto quanto ciò no? io penso di sì penso che molte anime in questo contesto erano anime un po' cariche di rabbia di giustizia dire ma come almeno fermatevi abbiate rispetto molto bene fase 2 hanno messo una targa all'iself a coscrivere i ricordi di queste persone che sono morte tutto qua la juventus dovrebbe fare un incantesimo qual è l'incantesimo della juventus? prendere quella champions league che è maledetta e portarla a chi gli aspetta e chi è che gli aspetta quella champions league? ma semplicemente ai loro tifosi un contro incantesimo che la juventus potrebbe fare sarebbe proprio quello di prendere quella champions league andare in questo caso a bruxello all'iself dov'è creare una struttura meravigliosa una bacheca di vetro dove lascia la champions league lì tutti i nomi dei giocatori e dove michelle platini in testa dicono cari signori questa champions league appartiene a voi la lasciamo a voi la dedichiamo a voi è come che la juventus dovesse pareggiare questo scotto e questo sarebbe un incantesimo fortissimo e a livello di immagine e a livello pubblicitario ma soprattutto a livello energetico teniamo presente che quel giocatore che fece con i gol in quella partita michelle platini su calcio di rigore che spiazzò grobelar su un intervento di bonie che al limite delle aree che non era neanche calcio di rigore platini non è che gli è andata bene anche lui perché è stato inquisito per scommesse pertanto la vita inconsciamente ha affermato anche platini pertanto vedrei bene che platini vedrei bene che il capitano del piero il capitano dei capitani vedrei bene che il capitano Gianluca Vialli vedrei bene che sicuramente il signor Agnelli insieme col capitano dell'attuale juventus vanno lì a portare questa champions league e vanno a dare a quei tifosi quel briciolo di brio quel briciolo di conoscenza che dice wow a distanza di 40 anni quasi perché nel 2025 siamo a 40 anni la juventus fa questo questo secondo me sarebbe un incantesimo molto molto potente molto forte a favore della juventus e da lì la juventus si libera di tantissime zavorre Alberto allora finora tu hai ragionato su fatti che sono avvenuti hai una grande abilità sui numeri eccetera però io posso testimoniare che tu il giorno in cui l'Italia giocò la finale degli europei l'ultima finale tu mi avevi detto e glielo avevi detto anche con lui che Bonucci avrebbe segnato due gol e ha segnato due gol poi con tolgo l'Italia poteva vincere gli europei ma lui doveva fare due gol in finale centrale migliore dell'europeo centrale migliore del mondo comunque lavoravo con lui è pertanto certo e poi mi hai detto anche che tu sei mesi prima degli europei dove tolgo paro tutto gli dicessi che lo avrebbe giocato sì perché ti spiego allora tu come fai a sapere queste cose cioè come fai a prevedere che poi si verificano perché tu anche mi hai detto che il giorno in cui tolgo ma anche l'anno scorso che dicevo che quest'anno c'era la guerra il bene contro il male che attenzione a Chernobyl che tutto quello che dico sia vero è normale sì ma ad esempio tolgo tu dicesti guarda stasera ce l'hanno i rigori parerai tant'è vero che tolgo dopo che ha parato l'ultimo rigore ha urlato Alberto che ha urlato il tuo nome ma come fai tu a sapere a prevedere allora questo è lo schema se tu conosci se tu conosci la matematica sacra io penso di essere una delle persone al mondo che la conosce meglio ho creato una grande cosa che nessuno penso ha mai creato cioè unire la matematica sacra ai simboli alle metafore a un pensiero forte il pensiero è tutto il pensiero lavora sull'effetto placebo se io ho una voce ho un sentito il sentito lo trasmuto attraverso una metafora un simbolo e conosco il canale conosco la matematica e ci vado dentro lo so cogliere riesco a posso anche sicuramente migliorare il destino di una persona perché lavoro senza che lei ne sia consapevole sul suo effetto placebo perché lavoro sulle sue frequenze io conosco le frequenze delle persone ma magari le persone non sanno nemmeno che esiste una frequenza pertanto è tutto giusto sicuramente ho influenzato Toldo nel far sì che ci siano cinque rigori su sei e li ha parati tutti ma anche sei mesi prima dicendo che sarebbe stato lui il portiere anziché Buffon ma perché in quel momento usavo l'energia di Toldo che era un momento di massima esaltazione in quanto il 9 luglio poi si sposò con sua moglie in questo caso la moglie di allora quindi noi siamo fondamentalmente dei fotoni di energia che dialogano l'universo e attraverso il nostro stato emozionale possiamo creare un'alterazione nel nostro stato emozionale o una svalutazione in questo caso la Juventus inconsciamente si è creata una maledizione senza che ne sia consapevole ma non solo lei purtroppo anche anche i componenti e questa è una cosa veramente che fa e allora bisogna creare un incantesimo bisogna creare un contro incantesimo ma scusami un attimo ma l'acqua santa che cos'è? la candela che cos'è? la candela è un ascensore no? il darsi le mani no? cioè il migliore al mondo che lavorava in questo settore il top player è Gesù Cristo pertanto io sto cercando di capire come funziona e vedo che questa conoscenza mia ha migliorato la vita a migliaia di persone e con l'aiuto mio e della medicina e di grandi dottori tante persone poi quando lavori sui conflitti hanno fatto delle situazioni e delle cose che sono speciali meravigliose ok allora la domanda che ti faccio è questa ma Bonucci quel giorno se tu non lo motivavi i numeri dicevano che lui avrebbe potuto segnare due gol avrebbe segnato lo stesso i due gol Toldo avrebbe parato lo stesso quei rigori perché i numeri dicevano che erano dalla sua parte secondo me non è la domanda esatta perché secondo me allora ma tu cosa pensi ma tu cosa pensi che dietro di me ci sia Alberto cioè tu cosa pensi che io sono forte no io sono forte perché in una dimensione parallela il cielo mi permette di essere forte perché sono connesso sono connesso nel mio qui e ora con comunque il mio spirito guida pertanto come io sono connesso con il mio Leonardo è connesso con il suo Francesco con il suo eccetera 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 ci sono degli accordi che sono al di sopra delle nostre prese di coscienza pertanto non esiste un Alberto con Bonucci o senza Bonucci o con Francesco o senza Francesco è successo così punto stop perché l'energia ha voluto questo pertanto dire che cosa sarebbe successo che cosa non sarebbe successo secondo me non è la risposta esatta secondo me la risposta esatta è è stato deciso così le coscienze quando si uniscono creano una magia uno più uno nella simbologia non fa due fa due nella matematica ma uno più uno è uguale uno più grande cioè acqua più acqua non fa due acque fa tanta acqua aria più aria fa tanta aria fuoco più fuoco grande fuoco terra più terra tanta terra due anime insieme unite possono creare una grande energia e una grande intenzione pertanto se la mia intenzione è forte l'intenzione di un'altra persona è forte e ho un programma che è molto evidente sicuramente si può far magia si può far qualcosa di pazzesco ma questo è della notte dei tempi cioè Nostradamus come faceva a comprendere determinate cose perché Nostradamus conosce perfettamente la matematica conosce la simbologia e sicuramente si faceva i suoi viaggi attraverso la sua connessione che aveva nei confronti dell'universo questo è il concetto quindi io ritengo che le persone ti faccio un esempio perché oggi gli italiani sono tristi cioè tu vai in giro c'è una cappa di tristezza sono tristi perché i governanti non amano il prossimo perché la televisione dà informazioni fasulle i giornali i telegiornali le radio e tutto quanto e le persone che sono sotto non sono causa della loro vita ma sono effetto e quando una persona diventa effetto non vive nella gioia nell'abbondanza nella battitudine ma vive nella tristezza pertanto le persone si abbassano ma abbassando la loro tristezza abbassano anche le loro difese immunitarie pertanto diventano anche più malaticce e più problematiche io sono dell'avviso che chi dovrebbe comandare lo Stato innanzitutto dovrebbe essere un numerologo i più grandi devono avere un numerologo perché la numerologia dialoga con l'universo e noi dobbiamo cercare di capire che siamo forti ma perché il cielo ce lo permette e più noi siamo in connessione attraverso la fede una grande intenzione più il cielo ci parla ci parla di notte ci parla di giorno ci parla mentre guidiamo la macchina ci parla mentre andiamo al piano ci parla che cosa attraverso l'intuizione attraverso l'emozione attraverso proprio ecco che dici wow ho avuto questa intuizione la elaboro la guardo è fantastico vado lì e guarda caso poi succede che tutto quello che tu dici si trasforma in realtà perché sei connesso noi siamo delle antenne in movimento Nikola Tesla diceva l'essere umano è una stella in movimento meraviglioso io ti dirò di più oltre ad essere una stella siamo anche degli alberi in movimento perché siamo degli alberi che si spostano ok i nostri capelli rappresentano il nostro sistema nervoso allungato rappresentano la chioma di questo albero e noi dobbiamo cercare di tornare indietro ed amare la vita a 360 gradi c'è molto di più che un dialogo analitico che non conta niente perché le persone soffrono di depressione ma perché sono oppresse perché non sono felici perché comunque c'è un qualcosa che le restringe comunque ripeto la metafora di Messi la metafora di Del Piero la metafora di questa situazione sono tutti chiavi questo è il dialogo della vita questo è il dialogo che i bambini dovrebbero studiare a scuola se un bambino studia a scuola attraverso la matematica simboli metafore e queste cose qui e lavora sulla sua autostima un bambino così quando ha vent'anni col cavolo che si ammazza e è suicida questo bambino qua andrà incontro solamente i suoi talenti e sarà un bambino che avrà una centralità un'autostima che è pazzesca senti che la cagnolina vuole uscire la cagnolina probabilmente deve farla pipì che bello finire così tornare a terra dopo tutto questo viaggio diciamo che alla fine bisogna marcare il territorio ok Olli adesso vai fuori apri alla Olli